Un viaggio culinario con melanzane, pomodori, ricotta e pinoli. Raccogli melanzane, pomodori, ricotta, pinoli, olio d'oliva, aglio, basilico e sale. Taglia le melanzane a fettine e grigliate su entrambi i lati. Mescola la ricotta, i pomodori tritati, i pinoli tostati, l'aglio e il basilico tritato. Stendi le fettine di melanzane, metti il ripieno al centro e arrotola. Cuoci gli involtini di melanzane in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti.